Musica Bentornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. L'avvio di aprile coinciderà con un peggioramento del tempo dopo un inizio di primavera decisamente caldo e secco. A determinare il cambiamento è l'insinuarsi di una saccatura nordatlantica che andrà ad innescare un vortice ciclonico secondario tra le Bariari e la Sardegna. Il peggioramento interesserà prima le regioni occidentali e poi anche il sud Italia. Qui le temperature non subiranno variazioni significative inizialmente poiché il tempo sarà ancora primaverile a causa dei venti meridionali. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per sabato 1 aprile. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su entrambe le regioni. Dal pomeriggio e soprattutto verso sera graduale aumento di nubi alte a cominciare dalla Basilicata verso la Puglia, ma senza fenomeni. Giornata caratterizzata da clima primaverile con temperature senza significative variazioni rispetto ai giorni scorsi. Massime che potranno raggiungere i 23-24 gradi, specie sul tavogliere. Venti che soffieranno da deboli a moderati dai quadranti meridionali. Mari da mossi a molto mossi. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore, Angelo Perrone, che con questo particolare scatto ritrae il magnifico spettacolo della Via Lattea nei cili di Torre Sant'Emiliano, nei pressi di Otranto. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.